Musica Bella a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Scusate se l'attesa è stata lunga ma in questo periodo ho compiuto 18 anni ed ho vissuto la favola della mia vita che sarà detto nel prossimo video intanto vi regalo una piccola parte della mia vita sono stata solo 6 mesi nella pancia di mamma eravamo due gemelle 6 mesi ma purtroppo la mia sorellina non ce l'ha fatta ne approfitto per rinnovarle gli auguri perché sarebbe stato anche il suo compleanno quando io sono nata ero molto piccola pesavo solo 900 grammi dopo essere stata 3 mesi in terapia intensiva mi sono affacciata sul mondo all'inizio non è stato molto facile perché ai miei genitori fu detto che sarei diventata un mezzo tale e che la mia vita sarebbe stata molto breve grazie alle persone che mi circondano che si sono impegnate per farmi lavorare duro ora sono qui e nonostante tutte le difficoltà vado bene a scuola, pratico sport e ho tanti amici e se qualcuno mi prende per mano riesco anche a fare qualche passo volevo approfittarle per ringraziare tutte le persone che hanno visualizzato il mio video che hanno lasciato un like o un commento ed un grazie speciale a tutte le persone che si sono iscritte al mio canale bene ragazzi continuate a seguirmi e iscrivetevi mi raccomando al prossimo video ciao ciao